Oggi voglio parlarvi di un potentissimo strumento per la perdita del peso. No, non sto parlando di diete e di alimenti magici né di allenamenti miracolosi. Sto parlando di meditazione. Vediamo come può la meditazione aiutare con la perdita del peso. Lo stress può portare a cattive abitudini alimentari. Meditare aiuta a gestire lo stress. La meditazione crea una connessione mente-corpo. Questo ti aiuterà a riconoscere i reali segnali di fame e sazietà. La meditazione promuove l'equilibrio emotivo, riducendo la tendenza di mangiare per conforto o per consolazione. Strategie per approcciarsi alla meditazione. Inizia con brevi sessioni quotidiane. Focalizzati sulla respirazione o segui una meditazione guidata. Pratica la consapevolezza durante i pasti. La meditazione può essere una potente arma nella perdita del peso, riducendo lo stress, aumentando la consapevolezza e promuovendo l'equilibrio emotivo. La meditazione può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di dimagrimento in modo sano ma soprattutto sostenibile. Se vuoi saperne di più su questo tema e capire come approcciarsi in maniera pratica e semplice, seguimi sui miei canali e parlerò nei prossimi video.